E appunto scindere due persone in una. No. Immaginatevi i medici nazisti, erano padri e mariti. Loro uccidevano persone, facevano cose crudeli. Tutte queste cose come fai a coinciderle col fatto che tu magari sei appunto padre, sei un marito, torni a casa, abbracci tua moglie. Bentornati nel caos. Siamo qua oggi con questo nuovo format che si chiama Chaos Review dove partiamo da una serie tv che abbiamo visto insieme oppure soltanto uno di noi e dopo ci colleghiamo a due libri, cioè un libro letto da me e un libro letto da me. Quindi cercheremo dei punti in comune tra serie tv e libri con un filone generale da seguire, poi da ricollegare a esperienze personali o a riflessioni in generale, non per forza esperienze personali. Ecco, anche perché per l'occasione di oggi nessuno dei due ha avuto esperienze personali forse di questo tipo. Io sì. Sigla. Da una serie tv passiamo a due libri, infine a ricordi personali e riflessioni. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, oggi che serie tv abbiamo portato? Da che cosa vogliamo partire? Vogliamo partire da Scissione, una serie tv che abbiamo visto su Apple TV qualche mese fa, a inizio dell'anno. Raccontaci un po' di questa serie. Allora, una serie secondo me super sottovalutata perché Apple TV in Italia secondo me è poco seguita, anche noi non avremmo fatto l'abbonamento se non l'avessimo avuto gratis, grazie a lei. Diciamo allora, Scissione, ho preso i miei appunti ovviamente, così flexo la bellissima Moleschina che gli ho regalato io. Esatto. Scissione è una serie appunto con attore protagonista Adam Scott, che forse avete visto in qualche altro film, diretta da Ben Stiller, che io non avrei mai detto dirigesse una serie così seria. Io dicevo ma che cazzo è Ben Stiller? Ma come chi è Ben Stiller? Però in realtà vi metteremo la foto qui e tutti direte come ho fatto io. Ah, ma è lui! Sai che si riconfondono Adam Sandler e Ben Stiller. I nomi o perché sono simili? No, le facce. Sì, le facce, i nomi, perché non è che sono simili, solo che fanno sempre... Gli stessi ruoli. ...quei ruoli e quindi un po' fisicamente siamo lì, quindi pam. Vabbè, andiamo avanti comunque. Scissione è una serie che ha superato un sacco le nostre aspettative. Assolutamente, a me è piaciuta tantissimo, veramente. Vuoi leggere la trama per chi intanto fosse interessato, poi dopo commentiamo. Allora, molto brevemente, per non fare spoiler soprattutto. Esatto. Trama. La Lumon Industries è un'azienda che utilizza una procedura medica di scissione, cioè per separare i ricordi della vita personale di alcuni dei suoi dipendenti dai loro ricordi lavorativi. In questo modo, una volta entrati nell'azienda, dipendenti le persone che ci lavorano, il cosiddetto interno non sa nulla del cosiddetto esterno e viceversa. Cioè, veramente ci sono, per una persona, due persone. La persona che c'è all'interno dell'azienda, che lavora all'interno dell'azienda, che ha ricordi solo che riguardano il suo lavoro, solo le otto ore in cui lui è all'interno dell'azienda, e un'altra persona esterna, invece, la persona potremmo dire originaria, il sei originario, che però non ha ricordi di quello che succede all'interno dell'azienda, non sa nulla riguardo il suo lavoro, riguardo i suoi colleghi, riguardo quello che fa. E già così, direi che spero sia solo a raccontarlo motivo di curiosità per gli ascoltatori, perché è veramente una serie... Una serie? È una serie molto... no, molto bella, più che altro perché sono stati capaci di rappresentare questa trama, diciamo, in maniera impeccabile, veramente. Niente da dire riguardo anche gli attori bravissimi, complimenti agli attori. Sì, il cast ha funzionato proprio molto, molto bene. Secondo me è una cosa che, sentendola, non si capisce bene, però quando e se la vedrete, capirete subito. Sì. È appunto scendere due persone in una. No. Una persona in due. Esatto, sì, esatto. Cercavi di far capire meglio la cosa, forse hai causato maggiori dubbi a riguardo. È una roba molto... cioè, da spiegare sembra una roba davvero che dici, ma che cazzo stanno dicendo? Invece è una roba semplicissima. A guardarla, probabilmente, come già ha detto, si capisce. Beh, possiamo disegnarla. Dovrei disegnare io. Prego, all'artista. Cosa dovrei disegnare? Eh, devi disegnare quello che abbiamo appena detto. Ok, allora, una persona si presenta alla Lumon. Lumon, l'azienda che... come cazzo si dice? L'azienda che adopera questo tipo di... Che adopera, cioè che termine che usa, che si serve del... La Lumon, l'azienda che si serve di questo tipo di operazione, perché in effetti è proprio un'operazione, per scindere il cervello di una persona. Esatto. Qui c'è una persona che decide di lavorare per la Lumon, quindi cosa fa? Praticamente si sottopone a una vera e propria operazione. Operazione chirurgica, sì. Lui è su un lettino operatorio, in questo momento sta fluttuando su un lettino operatorio. Dietro di lui c'è un dottore, il quale gli impianta all'interno del cervello un microchip, che farà sì che una volta entrato all'interno, nel perimetro dell'azienda, questa persona non si ricorda nulla della sua vita al di fuori. Ok? Disegna tipo un cervello. Oddio, disegna un cervello. Sì, fai due chiappe. Ok. Questo è il mio cervello. Ottimo, sembrano due palle veloze. Facciamo finta che sia diviso in due il cervello, dopo l'operazione, e ci sarà una prima parte che è quella della vita privata. Quindi la possiamo chiamare tranquillamente coscienza 1. E ci sarà una parte 2 del lavoro, che chiameremo coscienza 2. Queste due parti, quindi coscienza 1 e coscienza 2, non sanno niente dell'altra parte, nonostante siano nello stesso cervello. Esattamente, proprio così. Bene, quindi speriamo che questo sia stato abbastanza per farvi capire la trama in generale. Sì, speriamo di essere stati chiari dopo questa spiegazione. E cosa succede nella serie? Appare questa persona che creerà una serie di conseguenze. Ovviamente noi non diremo quali sono queste conseguenze, perché sennò vi spoilereremmo tutta la serie. Per cui andiamo avanti. Beh, guardando questa serie, intanto, diverse sono state le riflessioni che abbiamo fatto. Ecco, proprio sul momento. Intanto, una cosa che abbiamo notato è che ciò che accumulava tanti dipendenti della Lumon, che si sottoponevano al processo di scissione, era il fatto che avessero vissuto nella loro vita dei traumi. Cioè che ci fosse qualcosa nella loro vita che li rendesse depressi, tristi, al 99% anche soli, e che quindi si servissero del loro io interno all'azienda per non pensare per tante ore durante il giorno a ciò che li rendeva tristi. Diciamo sì, tutti hanno un grosso trauma in comune che cercano di evitare invece che affrontare. Infatti qui c'è sorta la domanda interessante che poniamo anche a voi. Voi lo fareste? Cioè, secondo voi potrebbe essere una buona soluzione quella di scindere la propria memoria, il proprio essere, in due, in modo tale da poter non pensare a certe cose che vi feriscono per tante ore durante il giorno. Io ti dico che non lo farei, però secondo me è una cosa che puoi sapere per certo soltanto se la vivi. Cioè, se vivi il trauma e quindi senti il peso di avere questo trauma o...? Se vivi il trauma e hai la possibilità di scindere effettivamente il cervello. L'unica cosa che mi spaventerebbe è chiedermi perché vogliono scendere il mio cervello, cioè perché vogliono che io una volta uscito dall'azienda non sappia niente di quello che faccio all'interno dell'azienda. Cioè, io potenzialmente all'interno dell'azienda potrei uccidere dei bambini. Potresti fare qualsiasi cosa, sì. Cioè, uccidere delle persone, sganciare delle bombe atomiche sul mondo. Quindi quello sarebbe il mio unico dubbio. E poi anche la paura del dire ma se la me interna non vuole stare lì, se la mia interna non è felice all'interno dell'azienda, io esterna come faccio a saperlo? Cioè, la obbligo a stare all'interno di un posto e a fare un lavoro che non le piace, ecco. Sì, ma sono problemi che se hai un trauma che non vuoi affrontare non ti poni, secondo me. Eh, forse quello, sì. Se hai un trauma... Diventi egoista, sostanzialmente, diventi egoista, non ti poni il problema e dici il mio trauma, la mia tristezza è così forte che indipendentemente da cosa io potrei causare, me ne frego. Esattamente, sì. La vedo esattamente così. Poi cosa voglio dire? Altra cosa interessante è porsi la domanda che saremmo sempre noi? Cioè, se avessimo la possibilità di dividere la nostra mente, cioè per dire, se a me piace tanto il rosso e poi la mia mente viene scissa in due, la me interna, che non sa niente della me esterna, amerà anche lei il rosso? Qua si capiscono le varie influenze che una persona ha nella propria vita che magari spostano i gusti e le preferenze, come può essere appunto la sessualità. Scindendo in due la tua persona, sei sicuro che saresti eterosessuale o omosessuale lo stesso? E sono tutte cose che, pensandoci, davvero ti fanno scervellare di brutto. Sì, oppure se tipo io e te fossimo colleghi, noi esterni stiamo insieme, i nostri noi interni si troverebbero bene, magari potrebbero odiarsi, cioè magari potrebbero odiarsi. Quindi sì, magari ti fa anche pensare effettivamente interessante lo spunto che hai dato, anche magari delle influenze del contesto, eccetera. Cioè il fatto che la nostra personalità sia, comunque si crei ovviamente, in relazione al contesto che noi viviamo, alle esperienze che facciamo. Quindi un altro io che vive però delle esperienze diverse, vive in un contesto totalmente diverso, potrebbe magari sviluppare dei gusti, dei valori totalmente diversi. Sì, e secondo te questo procedimento, questa, non so proprio come chiamarlo, la scissione, migliora la vita effettivamente? Ti dico prima come la penso io. Secondo me è proprio un evitare di affrontare una cosa, quindi non migliora la vita, ma semplicemente rimanda ai problemi che comunque continuano a esistere finché non li affronti. Sì, poi io sono anche dell'idea, non so che la nostra identità, cioè la nostra personalità, si costruisca in base a questa continuità della nostra memoria. Cioè noi è come quando ci raccontiamo agli altri e vogliamo trasmettere il nostro essere, generalmente raccontiamo certe esperienze passate che noi abbiamo fatto. Da piccolino a me piaceva tanto fare quella cosa lì e da più grande ho fatto quel viaggio lì che mi ha cambiato, non so come dire. Il nostro background. Il nostro background, esatto, che è continuo, che è costante, quindi di cose belle e di cose brutte. Se invece noi togliamo quel lato che può essere anche il lavoro, che magari è un momento in cui noi comunque creiamo altre memorie, altre esperienze, in breve, in sintesi, secondo me non migliora la vita, anzi ti fa sprofondare in una maggiore tristezza e solitudine, perché non avere continuità della tua memoria, non sapere chi sei fuori dal lavoro per tantissime ore, uscire e non sapere chi sei al lavoro. Cioè, non so, quando torniamo a casa anche durante il lavoro abbiamo probabilmente fatto delle esperienze. Magari chi è più fortunato e ha un lavoro che gli piace e di cui è appassionato, cioè, è una parte importante, ecco, della vita, della propria soddisfazione personale, creazione di memorie. Bene, ottimo. Allora, direi che possiamo chiudere un po' l'argomento scissione. Ripetiamo, è una serie tv che secondo me vale davvero la pena vedere e se la guardate o l'avete già vista fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Esatto, ve la consiglio vivamente anche io, è una bellissima serie. Ora passiamo a due libri, uno tu e uno io. Tu cosa hai scelto di portare? Che vibes ti ha dato? La trama o comunque il senso di scissione? Ok, caso vuole, mentre guardavamo scissione, stavo studiando per un esame e mi è capitato di scrivere a riguardo di un testo molto bello intitolato I medici nazisti di Robert J. Lifton. Si intitola appunto I medici nazisti perché Lifton, che è uno psichiatra americano, si occupa proprio di studiare il ruolo che i medici nazisti hanno avuto nell'eccidio di milioni di persone tra ebrei e non. E in particolare si concentra su quello che è un meccanismo psicologico, cioè quello dello sdoppiamento. Esiste proprio un meccanismo psicologico della nostra mente che si attiva in momenti di necessità. È anche positivo come meccanismo, cioè pensate a delle situazioni estreme di sopravvivenza, finisci su un'isola deserta, vieni tenuto ostaggio per due anni. Cioè diciamo un po' un estragnarsi dal proprio corpo? No, non è un estragnarsi dal proprio corpo, è una vera e propria scissione. Quando noi viviamo un evento molto traumatico nel tempo, che quindi dobbiamo sopportarlo nel tempo, praticamente il nostro cervello è come se si dividesse in due. Quindi c'è un io originario che era quello che era prima di vivere quel determinato momento traumatico, e poi si crea praticamente quest'altra coscienza, quest'altro io, che si occupa di sopportare il peso della tua esperienza traumatica, ok? E quest'altro io ha valori totalmente diversi, ha visioni totalmente diverse, cioè immaginatevi i medici nazisti, erano padri e mariti, loro uccidevano persone, facevano cose crudeli, eppure tornavano a casa. Facevano esperimenti poi strani, immagino. Certo, ci sono tantissimi esempi di, oppure anche semplicemente facevano le selezioni, una volta arrivate le persone ai campi di concentramento, cioè sceglieva chi viveva e chi moriva, chi viveva non faceva di certo una vita migliore. E tutte queste cose come fai a coinciderle col fatto che tu magari sei appunto padre, sei un marito, torni a casa, abbracci tua moglie, giochi con i tuoi bambini, come fai a sopportare il peso di incidere? Scindendo il tuo cervello inconsciamente. Sì, scindendo esattamente la tua psiche e cosa succede? Quindi hai tutta un'altra realtà, cioè il tuo io normale, originario appunto, che vive la sua normalità da padre, figlio, marito, eccetera, il spirito santo, e l'altra che invece vive quella realtà più traumatica che però si caratterizza per significati totalmente diversi, cioè le selezioni erano solo una cosa prettamente medica per loro, io sì, devo decidere chi è sano, chi non è sano, perché la comunità, il popolo tedesco, la razza ariana deve essere sana, quindi io elimino dalla razza ariana tutte le malattie, cioè sto facendo una cosa buona, io da medico sto facendo una cosa buona, beh, tutti, tutti soldati, medici, eccetera, in tempi di guerra pensano di stare facendo la cosa buona e continuano a fare quella per questo motivo. per sopportare il peso delle cose che fanno e anche per non sentirsi responsabili ovviamente perché non vogliono sentire il peso della responsabilità, ecco. Certo, sono anche poi molti stati plagiati esattamente per far quello, quindi senza fare domande, senza interessarsi di più, eccetera. È un meccanismo veramente normale, è assurdo, adattivo della mente umana, cioè se tu fossi rapito e fossi tenuto per un anno in uno scantinato svilupperesti questo secondo io che è in grado di sopportare il peso di vivere in uno scantinato, di non vedere mai il sole, eccetera, eccetera, Tra l'altro hanno provato, hanno fatto un esperimento che una signora è stata 500 giorni sotto una caverna senza avere contatti con il mondo esterno, quindi non sa nulla del covid, non sa nulla di niente. Chi era? Jared Leto? No. Vabbè, e andando avanti quindi hai portato solo questo? No, non ho portato solo questo, non ho portato solo questo, non l'aspettavo, un libro a testa ovviamente ne porta due. Ne ho portati due perché c'è un altro legato, cioè questo, La banalità del male di Anna Arendt e molto semplicemente nella banalità del male che è un libro degli anni 60 del 900 cosa fa Arendt che è una filosofa tedesca del 900 importantissima, grande donna, grande pensatrice di filosofia morale, politica. Lei praticamente segue il processo che è stato fatto ad Eichmann quindi un funzionario sempre del regime nazista. Ah, quindi proprio collegato da Dio. Collegato, grazie da Dio, sì. No, da Dio. Eichmann praticamente riuscì a fuggire dopo la seconda guerra mondiale in Argentina. Ma, e vi dico questa curiosità, pensate com'è stato beccato. Perché praticamente suo figlio ha iniziato ad uscire con una ragazza, ragazza la quale poi ha raccontato che suo padre si chiamava Eichmann, aveva tutte delle idee naziste, eccetera, lei è andata a dirlo a suo padre, il quale era un ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento. L'ha sopravvissato proprio male. Quindi ha avvisato le autorità tedesche che si occupavano di punire i funzionari nazisti che erano riusciti a scappare e il Mossad, in realtà, i servizi segreti israeliani l'hanno catturato, l'hanno portato in Israele e l'hanno processato. E vi dico già, spoiler, poi lo condannarono a morte per crimini contro l'umanità. Quindi lui fu l'unica persona che in Israele fu giustiziata. perché in Israele non hanno la pena di morte. Vabbè, e niente, quindi lei segue questo processo. Molto brevemente ve la faccio. La cosa di Arendt perché si intitola La banalità del male? Perché lei dice, cioè, noi ci immaginiamo che per fare cose così crudeli come quella di organizzare la deportazione di migliaia e migliaia di ebrei che sai che stanno andando a morire come fece Eichmann. Ci voglia un mostro. Esattamente, ci voglia un mostro, cioè che questo male qui sia fatto solo da mostri. in realtà lei dice non è vero, lui è un individuo normale, banalissimo. Tutte le persone sono in grado di fare questo male, cioè noi non ci rendiamo conto di questa cosa qua. Una persona normale, tra virgolette, non ci pensa, ma potrebbe fare benissimo delle follie o del male vero e proprio a chiunque, cioè obiettivamente a chiunque. Poi ovvio, magari non hai il potere per fare male a popoli interi, per dire, però ai singoli o a piccoli gruppi, possiamo fare davvero male e non ci vuole questo mostro, basta una persona normalissima. Sì, cioè potenzialmente potremmo diventarlo tutti dei mostri, cioè, e questo ovviamente fu un libro accolto dalla critica con fastidio, perché comunque Arendt diceva, cioè, banalità del male, potreste essere tutti delle persone che fanno queste crudeltà, quando prima c'era il buonismo del dire in realtà loro sono delle persone crudeli che non succederà mai più nella storia perché sono state proprio quelle persone crudeli che hanno fatto. No, non è vero, può ricapitare perché ogni persona che noi appunto definiamo normale potenzialmente potrebbe essere capace di fare queste cose. Quindi, questo legato alla serie era che non hai la sicurezza scendendo la tua mente che tu all'interno dell'azienda non faccia cose cattive. Eh no, assolutamente infatti e diciamo che è un fregarsene totalmente cioè io penso solo a me stesso non mi frega niente di tutto il resto e anche se anche il mio interno è me stesso me ne frego a fare i suoi. Cioè ci de-responsabilizziamo diciamo come faceva no, come faceva anche Eichmann diceva che rispondeva a degli ordini certo cioè faceva parte di questo meccanismo era solo un bullone quindi lui non aveva la responsabilità morale di salvare quelle persone un ingranaggio un ingranaggio un ingranaggio però in realtà non è così cioè noi abbiamo sempre abbiamo sempre la possibilità di dire di no e abbiamo sempre la responsabilità sì questa non manca mai anche nei sistemi più totalitari nei quali sembra che tu una possibilità di scelta non ce l'hai ecco ognuno è giusto che poi si si prenda si assuma le proprie responsabilità ovviamente ci sono una serie non è che dal nulla automaticamente diventi capace di fare tali crudeltà c'è proprio un allenamento secondo me alla desensibilizzazione cioè non provi più empatia verso gli altri esseri umani non ti poni più al loro posto ovviamente esseri umani come animali come animali come ambiente certo poi ovviamente ogni cosa sì sì alle sue alle sue conseguenze eccetera io sono d'accordo con quello che hai detto è una roba che fa riflettere perché comunque davvero arrivi a umanizzare a normalizzare un delle figure che solitamente tendi a vedere lontane che non possono arrivare assolutamente a te impossibile che vivano nella tua stessa casa vicino a te nella tua stessa città eccetera quindi è è un percorso secondo me che aiuta ragionandoci a capire di più il male cioè il male come funziona e come appunto come dice il titolo come sia banale perché non è il male che ricerchiamo appunto il demone il re dei demoni cattivissimo che arriva e stermina il mondo vi lascio con un warning state attenti quando iniziate a perdere la capacità di immedesimarvi negli altri che sono umani animali eccetera vi state abituando alla crudeltà e state imparando anche a legittimarla soprattutto quando questa dal punto di vista legale e burocratico è accettata perché ovviamente durante il nazismo fare le cose che facevano era legale non stavi facendo niente anzi facevi qualcosa di male non facendo quelle cose il fatto che ci sia una legge che ci sia una burocrazia che gestisca una determinata situazione che possa essere anche solo quella nei confronti degli animali in termini di sfruttamento eccessivo abuso violenze nei loro confronti negli allevamenti intensivi ecco c'è tutta una burocrazia che gli allevatori sicuramente rispettano ma non significa che privino gli animali da crudeltà gratuite ecco ora sono molto interessata di sapere quale libro hai portato tu allora io ho portato un libro che in realtà non mi è piaciuto perché è palesemente un libro di altri tempi quindi con battute contesti storici e sociali che capisco poco però l'ho letto volentieri cioè è corto e poi ero curioso di come come finisse questo è il libro si chiama mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut la cosa bella di questo libro è che è tratto da una storia vera ma non una storia vera come si dice solitamente è una storia vera però riadattata sotto racconto fantascientifico l'autore ha usato un'esperienza propria della sua vita che effettivamente ha vissuto e l'ha raccontata con una chiave di scrittura fantascientifica quindi ha usato in questo caso i viaggi nel tempo eccetera per raccontare in questo caso parla del bombardamento di Dresda questa città se non sbaglio tedesca che lui ha subito da persone del suo stesso esercito della sua stessa fazione quindi il Regno Unito e USA lui è americano questo bombardamento è avvenuto il dal 13 al 15 febbraio del 1945 perché mi è venuto in mente questo libro perché allora perché c'è questo giochino che è una costante del libro in cui il protagonista si estranea dal suo corpo facendo questi questi viaggi temporali questi salti nel tempo cioè un attimo prima è a casa in pensione con sua moglie e l'attimo dopo torna in guerra il classico PTSD e la stessa cosa secondo me la fa proprio l'autore perché l'autore racconta una cosa che ha vissuto un trauma un dramma che ha vissuto ok in cui rischiava di morire di morire di perdere suoi amici compagni eccetera la racconta estragnandosi dalla persona che stava per morire cioè lui racconta come se fosse qualcun altro e non lui stesso capito un po' il parallelo ok come se lui cioè si guardasse dal fuori intanto e raccontasse come se fosse appunto un narratore in realtà racconta la sua storia ma da narratore esterno esatto e per di più la persona di cui racconta la storia si estranea dalla sua realtà esatto in determinati momenti e viaggia come se viaggiasse nel tempo sì sì esatto e è una doppia una doppia scissione sì è vero una doppia scissione poi si collega anche al fatto che cavoli effettivamente anche qua c'è la cosa dei traumi sì esatto e allora in questo libro a parte ovviamente l'aprire un po' i riflettori su questa su questo bombardamento che io personalmente non avevo mai sentito però effettivamente avevo letto qualcosa forse su sul bombardamento di Dresda perché proprio l'hanno rasa completamente al suolo cioè non c'era non era rimasto più nulla esatto è proprio una città che è stata rasa al suolo ma proprio la città cioè non l'accampamento dei militari o il front cioè la città dove le persone andavano a lavorare dove le famiglie vivevano obiettivamente c'era vita proprio il centro della città vita civile non militare si chiama mattatoio numero 5 perché il protagonista del libro che ricordiamo è l'autore si è salvato da questo bombardamento soltanto perché tenuto prigioniero dai tedeschi dentro a un mattatoio assieme ad altri soldati tra russi inglesi eccetera quindi lui si è salvato prettamente perché si trovava dentro a un mattatoio che essendo tutto murato immaginatevelo come me lo sono immaginato io quindi tutte tutte delle pareti in pietra sottoterra una sorta di bunker però dove macellavano e ammazzavano gli animali ecco interessante sapere che abbiamo appena citato la questione animale anche un po' così brevemente sapere anche che caso vuole il mattatoio venga tenuto nascosto non so come fosse fisicamente ti dico come me lo sono immaginato io quindi non so come fosse di certo non era in bella vista con la vetrata eccetera come non lo sono gli inceneritori delle persone tra le altre cose eh ma infatti perché nascondiamo anche la morte cioè ci vergogniamo anche della morte tutte le cose che non ci piacciono vengono tenute nascoste sostanzialmente esatto ci sono degli spunti interessanti in questo libro che voglio che voglio riportare un passaggio che sicuramente mi è rimasto impresso è quando arrivano dei soldati nuovi di cui non ricordo la nazionalità ma penso americani comunque non inglesi e incontrano i soldati inglesi che continuano a vivere da da prigionieri però facendosi facendosi il letto la barba lavorando costruendo comunque chiedendo e guadagnando cose dalle persone che li tenevano prigionieri quindi proprio come se si fossero adattati a quella vita e come se continuassero a non mollare e allora gli americani guardano e dicono cioè ma com'è che questi qua si fanno la barba si curano fanno il letto c'hanno tre materassi eccetera e i soldati inglesi un giorno gli rispondono e gli dicono quando una persona inizia a lasciarsi andare è proprio lì che finisce la loro vita finisce la loro esistenza e molti che si sono lasciati andare non sono più usciti da quel mattatoio cioè sono o morti o completamente impazziti insomma non sono finiti bene e questo è un grosso insegnamento come la disciplina aiuti in casi anche estremi ti aiuti a conoscere te stesso ad andare avanti e a continuare a dare peso e valore alle cose anche in un luogo in cui potresti davvero stenderti e non pensare più a niente un'altra cosa che mi è rimasta impressa del libro è una frase finale che si ripete tutto il libro che è così va la vita quindi quando la diceva questa frase la diceva o dopo la cavolata più cavolata oppure dopo una tragedia enorme capito bombardamenti cioè magari ti cita una persona appena citata e ti dice muore poi ammazzato tre anni dopo perché l'hanno guardato male racconta delle morti per motivi assurdi e le giustifica alla fine con così va la vita è proprio è proprio un è cinico sì anche lì ci vedo magari un po' uno sdoppiamento che dici vabbè va così cioè il tè normale il tè che ha che ha vissuto una vita normale serena non direbbe mai così va la vita se un tuo amico che hai visto il giorno prima è stato ammazzato perché ha guardato qualcuno no no è vero sicuramente avresti un insieme di idee valori così per la quale la morte in quel modo lì così violento è una cosa fuori dal normale che fa male non di certo dire così va la vita però d'altra parte se ci pensi è così cioè così è la vita anche per persone che vivono oggi che viviamo in una situazione diversa però diciamo che è un è una frase di rassegnazione non è una frase di io combatto perché non sia così è una frase di così va la vita cioè che se la dicessimo tutti sarebbe una giungla un'altra roba interessante è all'inizio quando lui effettivamente rappresenta se stesso che va da un suo ex commilitone e la moglie di quest'ultimo è abbastanza arrabbiata infastidita sapendo che è uno scrittore lui pensando al fatto che vuole scrivere un libro appunto su questa tragedia che entrambi hanno vissuto perché le dà fastidio le dà fastidio perché odia la spettacolarizzazione della guerra perché la guerra viene sempre raccontata come una cosa figa come una cosa adrenalinica come una cosa emozionante come una roba che porta orgoglio alla tua nazione questa cosa specialmente in America e non vuole appunto che venga usata per destare questo tipo di emozioni a chi la legge sì sì di stima nei confronti della violenza e la motivazione che dà è molto interessante e dice voi la raccontereste magari sotto questa voce qua ma in realtà eravate solo dei bambini cioè questi qua quando sono andati avevano 18 19 anni e lei dice hanno un figlio e dice potrebbe essere mio figlio capito lì eravate solo dei bambini continua il discorso dicendo la guerra non deve essere qualcosa di grandioso in cui sembrate uomini forti e vincenti perché eravate solo dei bambini e infatti il titolo vero del libro è la crociata dei fanciulli che è ispirata a questa crociata che effettivamente in teoria c'è stata sì si hanno pochi documenti ma non si sa se è vera immaginano che effettivamente ci sia stata intorno al 1212 e quindi dà questo titolo d'impatto d'effetto bello il fatto di dire la crociata dei fanciulli molto bella sì perché effettivamente in guerra andavano dei bambini qua lo traduce la crociata dei bambini ma comunque mattatoio numero 5 la crociata dei bambini molto bella questa cosa perché poi si collega anche all'oggi ovviamente oltre alla spettacolarizzazione della guerra questo magari più legato alla cultura americana però in generale alla cultura della violenza e della spettacolarizzazione della violenza certo sì basta pensare comunque non per accusarli assolutamente però anche i videogiochi film eccetera cioè la guerra è sempre wow cazzo l'ha ucciso ha ucciso il cattivo cioè è una roba che dici cazzo vorrei essere così figo cioè è sempre stata una cosa che faceva figo sì certo cioè se tu eri pronto a fare il riso se tu eri pronto ad essere violento arrogante aggressivo fa figo l'antico il più forte vince sa anche non so sempre adesso abbiamo citato la cosa degli animali per dirvi tutte quelle cose io capisco magari la pesantezza di certe propagande contro il consumo di carne animale d'altra parte però vedo tanti video tipo di gente che si fa figa mangiando un hamburger di carne davanti a persone che chiedono di smettere di macellare gli agnelli perché soffrono eccetera ok questo è proprio spettacolarizzazione della violenza capito io vado fiero del fatto che io essere umano specie superiore uccida crudelmente degli animali e me li mangi il fatto è che non li uccidono neanche non li uccidono neanche infatti non so neanche quello che gli succede ma proprio questa idea del figo riguardo a questo l'autore dice una cosa che ho riassunto in questa frase dopo un massacro non c'è nulla da dire quindi lui per una cosa come vent'anni doveva scrivere questo libro cioè lui era già uno scrittore comunque famoso comunque conosciuto lo faceva già di mestiere e doveva ancora scrivere questo libro su questo avvenimento importante della sua vita questa tragedia comunque che aveva vissuto e non sapeva non sapeva come farlo infatti poi ha scelto la chiave che vi ho detto prima ho segnato un passaggio del libro ok che mi è piaciuto e vorrei condividere vai concludiamo con questa citazione ho detto ai miei figli che non devono in nessuna circostanza partecipare a un massacro e che le notizie di massacri compiuti tra i nemici non devono riempirli di soddisfazione o di gioia ho detto anche loro di non lavorare per società che fabbricano congegni in grado di provocare massacri e di esprimere il loro disprezzo per chi pensa che congegni del genere siano necessari e questa cosa cioè parte che è super toccante e poi è bella è bella è positiva perché è detta da una persona che un massacro l'ha vissuto perché cioè se te lo dicessi io ma anche se me lo dicessi tu a me ti direi eh sì vabbè il massacro cioè immaginare una persona che comunque è uscita dal sotto di un mattatoio e ha visto una città rasa al suolo cioè è una roba che secondo me pochissimi se non nessuno può immaginare anche perché tutte le vittime non è che è tutto ripulito tutto solo la città cioè ci sono anche le vittime ci sono solo cadaveri fumo e cenere basta quindi sì insomma sostanzialmente tutte le persone che hanno vissuto a stretto contatto con situazioni di estrema violenza estrema crudeltà morte sofferenza ricordano veramente quanto sia importante la compassione l'empatia la pace in generale spero che si capisca che non è un discorso qualunque volto al buonismo assoluto del pace peace and love anche perché siamo in primis delle persone di merda per molte altre cose certo bene allora bene siamo arrivati al termine di questo episodio di questo primo episodio se siete arrivati fino a qua ragazzi grazie mille mettete like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale soprattutto ricordatevi che per noi è importante ci vediamo presto sicuramente per altri vlog ma anche per altri video di questo tipo quindi a presto ciao